Una squadra di lavoro che vede al suo interno, tra le più grandi imprese dell'Aquila e d'Italia, e all'orizzonte la battaglia per vincere la crisi economica delle aree interne e il grande progetto di fusione con la Confindustria di Teramo. Si è presentato questa mattina con questi elementi il neo-presidente di Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno, Riccardo Podda, responsabile risorse umane della tale Salena Spesa dell'Aquila, che guiderà le imprese dell'Associazione per i prossimi due anni, e prorogabili per altri due anni. Al suo fianco ci saranno anche i vice-presidenti Antonio Angelini di Poste Italiane, Pasquale Angelini di Enel, Roberto Monfredini di Euronic. Podda è stato scelto dal Consiglio Generale dei Soci ed eletto il 31 gennaio scorso, un'elezione che però non ha raggiunto l'unanimità dei consensi fermandosi a un passo dal 50%. Un'assemblea, quella che ha eletto Podda, che aveva riconfermato la spaccatura nell'associazione, di cui è stata prova anche la doppia candidatura alla presidenza, quella di Podda e quella di Fabrizio Famà di Alfaundri, multinazionale quest'ultima, che per diversi anni aveva scelto di uscire da Confindustria, rientrando soltanto negli ultimi tempi. Se vediamo il risultato finale della votazione, stiamo parlando di una base associativa assolutamente consistente, siamo ben sopra il 50%, ma ben sopra il 50%, mi sento di rappresentarlo anche dando un messaggio molto facile. È inutile dividersi, perché tanto la divisione non porta a nessun tipo di realizzazione di un progetto. Come farà? Che decisioni prenderà per convincere quell'altra parte, diciamo così, di associazioni le più piccole, gli artigiani, le imprese più piccole che invece non hanno espresso questo voto? Ma è facile, diciamo che sul territorio aquilano lei sa che ci insistono delle aziende molto strutturate, come la mia, come le farmaceutiche, come tante altre che adesso sono in poste, Enel e altro. È la grande impresa, è la media impresa che deve fertilizzare sulle medie piccole. Le medie piccole non devono aver paura del progresso, non devono aver paura del futuro. Aver paura del futuro significa rimanere indietro. Altro tema fondamentale da affrontare, ha spiegato Podda, è il nodo della ricostruzione delle tasse sospese alle imprese nel post-sisma ritenute aiuti di Stato. Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno ha già avviato una serie di contatti direttamente con Bruxelles.